Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo andiamoci dentro col video. Questo, a differenza di parecchi casi che vi propongo, è relativamente recente perché stiamo parlando di un delitto che si è consumato a Faenza, in provincia di Ravenna, in Emilia Romagna, il 6 febbraio del 2021. Ilenia Fabri, la protagonista del nostro video, nasce a settembre del 1947, quindi ha 46 anni quando avvengono i fatti. A Faenza conosce tanta gente e tutti la descrivono come una donna energica, sempre solare, sempre allegra, sportiva e piena di amicizie. Più precisamente, Ilenia vive in via Corbara, con la figlia Arianna, di 21 anni, nata dalla relazione col suo ex marito, Claudio Nanni. La donna, avendo uno spirito sportivo, lavora prima in una palestra del borgo e poi come segretaria nell'autofficina del marito. Ma col tempo, qualcosa nel matrimonio si incrina, anche perché lei lo aveva denunciato per maltrattamenti. Ma non c'è solo questo, perché questa storia ruota totalmente attorno, a mio parere, al denaro. Mi spiego meglio. Ilenia si vede stromessa da tutte le attività di famiglia quando si lascia con Claudio. Ilenia si rivolge ad un'avvocata e scatta la denuncia perché lei aveva lavorato nelle attività di famiglia per lui, ma il suo operato, negli anni, non viene mai in nessun modo retribuito dal marito. La donna, quindi, lo porta in tribunale e vince. Lui le deve dare tanti soldi, circa 500.000 euro. Però c'è qualcosa di strano, perché Ilenia più vince, più diventa paranoica. Ilenia ha paura. Infatti, confida ad alcune amiche che lui l'avrebbe sicuramente fatta fuori, ma non personalmente. Insomma, Claudio non si sarebbe sporcato le mani, ma avrebbe sicuramente e senza alcun problema assunto un sicario. Ilenia ripeteva anche, e lo pagherà poco, perché per lui la mia vita vale poco. Alla sua avvocata chiede addirittura di fare testamento perché vuole che tutti i suoi averi vadano a sua figlia. Poi, ecco che arriva la mattina del 6 febbraio, quando Arianna, la figlia di Ilenia, esce di casa molto presto per andare a prendere una macchina per lei con suo padre Claudio. In casa, però, non c'è solo Ilenia, bensì è presente anche la fidanzata di sua figlia, che si chiama Arianna Massioni. Le due si vedono tutti i weekend, ma quello in particolare è proprio speciale perché è il loro anniversario. Quindi Arianna, la figlia di Ilenia, è fuori in macchina con suo padre, mentre la fidanzata di Arianna è ancora in casa con Ilenia e la sente urlare. La donna esclama, chi c'è in casa? Chi sei? Cosa vuoi? La ragazza apre leggermente la porta della camera e capisce che Ilenia è ancora nella sua camera da letto. Intanto anche i vicini di casa sentono una voce femminile urlare, aiuto, aiuto, aiutatemi! Dunque i vicini si precipitano alla porta del suo appartamento, provano a bussare e suonare, ma non ricevono risposta. A questo punto Arianna si alza, prende coraggio e, aprendo di nuovo leggermente la porta, vede un uomo colere giù dalle scale. La ragazza quindi si affretta a chiamare Arianna, la sua fidanzata, che in quel momento è in macchina con suo padre Claudio ed è anche stranita perché si erano salutate da pochi minuti. Arianna quindi risponde e sente la sua fidanzata pregarla di tornare indietro. Ripete che c'è qualcuno in casa che ha visto la sagoma di un uomo, sua madre urlava. Arianna quindi riflette. Non può esserci nessuno in casa perché quando lei è uscita ha chiuso tutto, ne è certa. Ma non può stare lì più di tanto a riflettere, quindi dice alla sua fidanzata che deve interrompere la chiamata per allertare le forze dell'ordine. La prima pattuglia arriva in via Corbara alle 6.17 del mattino. Gli agenti di polizia provano a citofonare a casa di Ilenia Fabri ma non ottengono risposta. Quindi gli agenti citofonano al primo vicino a caso per farsi aprire il cancello e il portone d'ingresso. Quindi il vicino che già si era allarmato ed era andato fuori dalla porta da Ilenia perché l'aveva sentita urlare va ad aprire agli inquirenti che immediatamente chiedono dov'è il furto. Il vicino gli dice che non sa se ci sia un furto ma aveva sentito urlare dall'appartamento accanto al suo. Gli agenti chiedono immediatamente se per caso c'è un'altra entrata e il vicino risponde affermativamente dicendo che si può entrare anche dal garage. L'agente di polizia quindi va verso il garage, fa per aprire la porta e in effetti la trova già aperta. E non ci sono segni di effrazione. Nel garage c'è anche una zona lavanderia e poi c'è un'altra porta. Il poliziatto si ritrova in cucina e trova immediatamente Ilenia Fabri stesa a terra in un lago di sangue con la gola tagliata. Il vicino di casa che aveva seguito l'agente lo sente esclamare dalla cucina Non entri! Non entri! Chiami il mio collega e chiami il 118! Arianna nel frattempo sta tornando indietro con suo padre quando arriva davanti alla via di casa sua e di sua madre. Vede due agenti che corrono verso la porta principale dell'abitazione Dunque scende dalla macchina e avvisa di essere stata lei ad allertare le forze dell'ordine Poi corre verso il garage, riesce a salire fino in cucina E si trova davanti sua madre senza vita in un lago di sangue e con la gola tagliata Ma soprattutto vede gli occhi di sua madre sbarrati, ormai opachi Arianna quindi ha la tremenda sorte di, a soli 21 anni, vedere la sua mamma senza vita nella cucina di casa Ovviamente esce immediatamente dalla cucina tramite il garage e si accascia a terra Non sta bene, non riesce a respirare Intanto arrivano le prime interviste dei vicini e degli amici di Lenia Abito in uno degli appartamenti, ho sentito degli urli, racconta una vicina di casa Delle grida di prima mattina Sinceramente io non ho collegato, non ho capito cosa stesse succedendo Ho pensato a una lite e niente di più L'unica voce che ho sentito era femminile Non ho avvertito voci maschili Era molto solare, allegra Quando ci incontravamo ci fermavamo anche a parlare Racconta Elisa Malavoti, che è una vicina di casa L'ho vista l'ultima volta non più tardi di qualche giorno fa Quello che è successo è assurdo Ci siamo conosciuti da bambini, racconta Yuri Fabri, che è un amico e un parente Era una ragazza tranquilla, squisita Mi mancano anche le parole per descriverla ora Nel tempo ci siamo persi e poi ultimamente ci eravamo ritrovati Entrambi amavamo lo sport e questo ci aveva riavvicinato Un mio caro amico vive nello stesso complesso dove abita lei E andando a trovare lui, l'avevo vista L'avevo incrociata l'ultima volta un paio di settimane fa, conclude Fabri Eravamo in contatto ma con le varie restrizioni legate al virus Le occasioni per vedersi erano diminuite Mancherà tanto a parecchie persone Ci sono delle domande a cui è necessario dare risposta Chi ha ucciso Elenia Fabri? Come è morta? Ci sono delle lesività contusive concentrate sul capo Molto più rilevante è una ferita trasversale da taglio Questa lesione incide senza attraversarla la cartilagine tiroidea Quindi la morte va attribuita ad una emorragia acuta a seguito della recisione della carotide La sera precedente Arianna, la sua fidanzata e sua madre hanno cucinato dopo cena dei salatini E avevano usato un coltello che era sul lavello della cucina I dati che hanno a disposizione gli inquirenti sono fondamentalmente due Chi è entrato aveva le chiavi perché le porte non presentavano segni di effrazione Ilenia è stata uccisa abbastonati con un corpo contundente e finita con un coltello da cucina Il coltello da cucina viene ritrovato sulla scena del crimine Mentre non c'è traccia del corpo contundente Ma se scaviamo ancora un po' nel passato della donna Ecco che emergono tanti altri indizi Come già detto Claudio Nanni, il suo ex marito da ormai 5 anni L'aveva estromessa economicamente fin da subito E quindi fin dal 2016 Nel 2017 c'è la prima udienza e il provvedimento presidenziale Stabilisce che i due coniugi sarebbero dovuti rimanere a vivere nello stesso immobile Finché non avessero trovato un acquirente per la casa Ilenia torna dall'udienza in un certo senso sconfitta Il marito può rimanere in casa con lei senza un termine E a questo punto Claudio inizia a umiliare letteralmente Ilenia La tratta alla stregua di una sguattera e la insulta dicendole che È un verme, una puttana, una poco di buono, una parassita, una mantenuta, una ladra, una cattiva madre Le urla Non fai niente dalla mattina alla sera Ti metterò in ginocchio se non fai quello che dico io Ti spacco la testa, non capisci niente E altre frasi e insulti anche più brutali di queste Il 20 ottobre 2017 Ilenia aveva sporto denuncia nei confronti del marito Lamentando maltrattamenti e lesioni Nello specifico l'aveva presa per il collo e sbattuta contro una porta e contro ad un muro Alla sua avvocata scrive Stasera il mio ex marito mi ha minacciata in maniera pesante Non avevo il telefono a portata di mano Mi ha detto che se sarà lui a dover uscire di casa Finirò male, che rimarrò senza macchina e senza casa E ci saranno problemi anche per lei Ovvero per l'avvocata Ilenia però a questo punto piano piano col tempo cambia vita Riesce a consolidare nuove amicizie perché è una donna allegra e disponibile Trova un altro lavoro lontano dal marito in una concessionaria di Imola E inizia anche una nuova storia d'amore nel 2019 con Stefano Un artigiano Pensate che i due si dovevano sposare Addirittura avevano già le fedi Le persone vicine Ilenia sostengono che finalmente la donna Ha trovato serenità dopo anni davvero duri Di certo i rapporti tra Ilenia e Claudio e il suo ex marito sono davvero pessimi La morte della donna avviene proprio 20 giorni prima dell'udienza Della causa civile che Ilenia aveva intentato contro il marito Cause in cui, come già vi ho spiegato, rivendicava ingenti somme di denaro Le amiche di Ilenia sono chiare La donna aveva confidato loro più volte che se quella causa l'avesse vinta Claudio l'avrebbe uccisa Ilenia aveva paura di essere ammazzata perché Claudio era sempre più arrabbiato Ma ci sono anche degli amici di Claudio che di certo non testimoniano a suo favore Nell'estate del 2019, dice una sua amica, Claudio parlava dei suoi problemi e si confidava con lei Finché un giorno le chiede se può fornirgli qualche nominativo di qualcuno disposto ad uccidere dietro pagamento Un'altra amica testimonia dicendo Beh, una volta disse una frase un po' strana Ossia prima o poi le mando qualcuno a farle la festa Ovviamente ha processo Claudio Nanni Testimonia E alla domanda del pubblico ministero Senta, ma lei era solito minacciare sua moglie? Ribatte sicuro Io non ho mai minacciato di morte mia moglie Il pubblico ministero ribatte Sì, ma lei ha seguito, ha sentito i testimoni qui presenti? Claudio risponde Le ho sentiti Ma io non ho mai minacciato di morte mia moglie Apparentemente l'imputato che la mattina dell'omicidio era in auto con sua figlia Sembra avere un alibi di ferro Ma tutti i testimoni concordano nel dire che Claudio Non si sarebbe mai sporcato le mani Ma avrebbe affidato a qualcuno l'incarico di uccidere sua moglie Gli investigatori quindi si mettono alla ricerca di un possibile sicario E dall'analisi del suo cellulare Emerge un messaggio ambiguo Indirizzato ad un amico noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti penali Un tale Pierluigi Barbieri Per l'esattezza gli investigatori ascoltano un file audio whatsapp di Claudio Nanni Che parla con un tizio di nome per l'appunto Pier Nanni dice Siamo tutti imprigionati, cazzo, ci ha beccato tutti I 14 mi dovrebbero fare l'ultimo tampone e il giorno dopo dovrei essere negativo E dopo esco E una volta che esco, dai, dopo si fanno tutte le cose che bisogna fare, ok? A Claudio Nanni il pubblico ministero chiede Cosa sono le cose che dovevate fare? Claudio risponde che quando la quarantena sarebbe terminata Avrebbe rincominciato a fare tutte le sue cose Avrebbe ripreso insomma la sua routine quotidiana Il PM di nuovo ripete leggendo Si fanno tutte le cose che bisogna fare Che bisogna? Che bisogna? Claudio quindi dice In precedenza si era parlato anche di andare a prendere un caffè, un aperitivo Tutte cose che si vanno a fare A questo punto il giudice fa riascoltare in aula l'ultima parte di audio E anche lui ripete Che bisogna fare Poi riprende Quindi andare a prendere un caffè è una cosa che bisogna fare? Andare a cena, non so, bisognava farlo? Era un imperativo fare queste cose? Claudio ovviamente a questo punto rimane apatico senza rispondere Perché in effetti ciò che dice non trova senso logico Pierluigi Barbieri, l'amico di Claudio, è come già vi ho detto Noto alle forze dell'ordine per vari precedenti penali Ma in particolare tra i precedenti penali a suo carico Ce n'è uno del febbraio 2020 Quando a predappio partecipa insieme ad altre persone Ad una spedizione punitiva in qualità di picchiatore Claudio e Pierpaolo condividono però a detta loro una passione La moto Claudio sa bene che Pierpaolo era in carcere Perché i due iniziano ad avere contatti Appena quest'ultimo viene scarcerato Ossia il 10 agosto I due si sentono il 17 agosto Il 21 agosto Il 9 settembre Il 15 16 17 settembre Del 2022 Nel 2021 si sentono poi il 9 Il 19 20 E il 29 gennaio Poi smettono totalmente di avere contatti Questo vuol dire che Tra il 20 e il 29 gennaio 2021 Pierpaolo e Claudio Completano e pianificano I particolari dell'omicidio di Ilenia Che avverrà il 6 febbraio Il dirigente della squadra mobile Spiega che Il passaggio successivo E' quello di verificare tramite i loro terminali Che tipo di macchina Usasse Pierluigi Dopo aver accertato Che questa macchina Appartiene a Pierluigi Barbieri Gli inquirenti si recano in via Corbara Dove si trova l'abitazione In cui Ilenia è stata uccisa E li fanno una scoperta straordinaria Gli inquirenti acquisiscono Tutti i filmati Degli impianti di videosorveglianza privati Posti nei pressi dell'abitazione Oggetto del teatro dell'evento criminoso Alle 5.21 Si vede un'autovettura Toyota Yaris Che effettua un'inversione di marcia Ripercorrendo poi la strada a ritroso Quindi la Toyota Gira avanti e indietro Per via Corbara Poco dopo Alle 5.51 Una persona a piedi attraversa la strada Per poi percorrere la stessa strada di nuovo In direzione opposta Pierpaolo dice di essere arrivato nel 2014 a Forlì Ha conosciuto un ragazzo Che aveva la stessa moto Quindi ha iniziato ad uscire insieme Un pomeriggio il ragazzo porta Pierpaolo da alcuni suoi amici Tra cui c'è anche Claudio Nanni Così i due si conoscono La loro conoscenza e la loro frequentazione È dovuta alla passione per le moto Successivamente Pierpaolo va anche ad aiutare in ufficina Claudio Quest'ultimo inizia a lamentarsi di sua moglie con Pierpaolo Quando i due si separano Svela Pierpaolo che aveva trovato un gruppo di persone disposte a togliere di mezzo Ilenia Ma il capo del gruppo era stato arrestato E a questo punto che Claudio chiede a Pierpaolo se può occuparsene lui Claudio però anche in questo caso sostiene di non aver mai chiesto a Pierpaolo di uccidere Ilenia Bensì gli aveva chiesto di intimidirla e di spaventarla per farla desistere Nel chiedergli altrettanti soldi tramite la causa civile Soldi che sottolineo Ilenia doveva avere Le spettavano quei soldi perché aveva lavorato per oltre 15 anni come segretaria nell'officina del marito Senza prendere uno stipendio Ma che dico uno stipendio? Neanche mezzo stipendio Quindi Pierluigi e Claudio sostengono due tese differenti Il primo afferma di essere stato mandato in quella casa per uccidere Il secondo solo per intimidire Ma che mente? Intanto Pierluigi sostiene di aver chiesto a Claudio 20.000 euro e una macchina per il lavoro 20.000 euro e una macchina per andare a intimidire qualcuno secondo me sono un po' troppi Ma chi sono io per giudicare i listini prezzi dei sicari? A parte tutto è chiaro che Pierpaolo sia andato a casa di Ilenia per ucciderla E lo è per i fatti che lui stesso esporrà durante il processo È lui che spiegherà la dinamica dell'omicidio E non è stato un omicidio commesso per sbaglio Non l'ha spaventata un po' troppo L'ha seguita per casa con il fine di ucciderla il prima possibile Pierpaolo spiega che non ha ricevuto alcun acconto Non è stato pagato prima Si fidava perché ha detto a Claudio che Se non l'avesse pagato Aveva le chiavi della sua officina E sarebbe arrivato anche a lui Poi si gira verso il giudice e dice queste esatte parole Io, signor presidente Se vado in un parcheggio e vedo una vecchietta in difficoltà O un vecchietto che non ce la fa caricare la macchina La spesa ad esempio Lo aiuto Ma se si ferma qualcuno e mi dà del coglione Lo meno e lo lascio lì Il giudice anche un po' in imbarazzo dice Va bene, ok, andiamo avanti E Pierpaolo sottolinea Ma malamente proprio, eh? Ora, questo uomo onestamente mi è sempre sembrato sincero È orrendo sicuramente Ha commesso un delitto atroce Ha portato via la mamma ad una figlia di appena 21 anni Ma è sincero A questo punto Pierpaolo spiega come sono andate le cose la mattina del 6 febbraio L'uomo scende dalla macchina Poco dopo arriva Claudio Nanni La figlia sale in macchina con lui E se ne vanno Appena Claudio e Alessia si allontanano Pierpaolo si avvicina all'abitazione Apre il cancellino La porta del garage Ed entra in camera Come? Con una copia di chiavi che gli ha fornito Claudio Ecco perché non c'erano segni di scasso Quando arriva in camera di legna La trova sveglia nel letto con in mano il telefono Si spaventa appena lo vede Gli urla Chi sei? E poi cerca di scappare Quindi Pierpaolo per non farla scappare Col manico del martello che si è portato dietro Che è in teflon La colpisce per la prima volta sulla nuca E la spinge giù dalle scale Pierpaolo spiega che sempre col manico del martello La colpisce con una sequenza di colpi Alla parte posteriore del collo Poi la colpisce sul cranio La gira a faccia in su E nota che ancora deglutisce Quindi capisce che non è morta Dunque la gira nuovamente Poggia il manico del martello sotto la gola Punta il ginocchio nel mezzo della sua schiena E spinge in su con forza La cosa però non si svolge in silenzio Come sapete in quel momento C'è la fidanzata di Alessia in casa Che allerta quest'ultima immediatamente Ci sono anche i vicini che sentono delle urla E si precipitano a suonare il campanello E a bussare alla porta Pierpaolo intanto Prende la morente in legna per i capelli E la trascina verso la cucina Vede il coltello sul lavello E le taglia la gola L'uomo dice che l'ha fatto Perché gli risuonava nella mente La voce di Claudio Che gli ripete Mi raccomando, mi raccomando Deve uscire morta Io sono sul lastrico Mi raccomando Non deve più respirare Quindi Pierpaolo dopo aver ucciso Ilenia Esce dalla casa Per mancanza di tempo Pierpaolo esce più in fretta Che può Dalla casa Ma in teoria Doveva mettere a soquadro Per farla passare Come una rapina finita male Poi Pierpaolo aggiunge Che era fuori come un balcone Mentre commetteva Questo atroce delitto E la polverina Gliel'aveva proprio offerta a Claudio Per riuscire a disinibirsi Pierpaolo poi sostiene Che ha degli sbalzi d'umore Molto repentini Un secondo è tranquillo Mentre quello dopo Vorrebbe spaccare tutto E secondo me Sarebbe anche Un punto interessante Da approfondire Ma il processo Tira corto Rispetto a questa situazione L'unica persona Che testimonia Spiegando la sua situazione È suo fratello Che dice che Pierpaolo È stato cacciato di casa A 16 anni Ma in precedenza Suo padre L'ha picchiato tante volte E cito il fratello Ora aggiungendo Pierpaolo è stato picchiato In un modo Che voi neanche Immaginate Gli ho visti tante volte Rotolarsi in cucina E prendersi a botte E poi un'altra cosa Ricordo Io ero molto piccolo È una cosa assurda Che ha fatto mio padre Ossia Legarlo sul tavolo Per vedere Se lui si riberava E infatti Era caduto quel tavolo Che si era spaccato la testa Pierpaolo aggiunge Che la situazione Con Ilenia Che gli ha descritto Claudio Gli ha fatto tornare in mente Quello che gli aveva fatto La sua ex moglie Ossia L'aveva tradito Gli aveva fatto andare In rosso il conto in banca Quindi In un certo senso Ha provato Un senso di solidarietà Nei confronti di Claudio Che stava vivendo Delle ingiustizie Come quelle Che aveva vissuto Pierpaolo Pierpaolo confessa Che già precedentemente Claudio Lo aveva incaricato Di uccidere la moglie Ilenia La prima volta Pierpaolo L'avrebbe dovuto Ammazzarla E metterla dentro Un trolley Per portarla Verso un fiume Sotto un cavalcavia Dove Claudio Aveva già scavato Una buca Metterla dentro La buca Versare dell'acido Riportando indietro Il trolley Dall'esame forense Del telefono Sequestrato in uso A Claudio Viene trovato Un promemoria Datato 10 ottobre 2020 In cui riportava Valigia Buco Chiavi Ovviamente Claudio dice Non ho mai scavato Non ho mai scavato Nessuna buca Nel magazzino Adiacente all'ufficio Dell'officina Però in effetti Vengono trovati Due trolley Di cui uno Contiene Una vanga E due flaconi Nuovi di acido Per sturare i lavandini Claudio continua A ripetere Che Pierpaolo Per l'intimidazione Ha chiesto a Claudio Non abbiamo deciso Insieme il da farsi Io gli ho fornito Le chiavi Che mi aveva chiesto E gli ho fornito La valigia Che mi aveva chiesto Altra domanda La moglie di Claudio Visto che questo piano Era per farla Desistere Dalla causa Giudiziaria Come avrebbe mai Potuto collegare La presenza Di Pierpaolo Magari con una valigia In mano Alla causa Che faceva Nei suoi confronti Da qui Claudio Non sa cosa rispondere Nel merito In modo concreto Perché dice Beh credo che spaventarla Fino a quel punto Portasse all'idea Di dover desistere Ciò che stava Per farmi succedere Il PM Armandosi di santa pazienza Ribatte No guardi Non ha capito la domanda Mettiamo caso Che sua moglie Si fosse spaventata Come avrebbe fatto Sua moglie A collegare Pierpaolo E quindi lo spavento Che le avrebbe causato Lo stesso Pierpaolo A lei Claudio Qual è il passaggio Logico Che avrebbe dovuto Fare sua moglie Claudio Tentenna E poi dice Beh non lo so Se mi chiede Una valigia Qualcosa per fare Un buco Una foto Presentarle Una foto Non lo so Con una minaccia Legata a queste cose Poi magari Lei avrebbe pensato Che sono io A voler essere Il mandante Di questa intimidazione A questo punto Il giudice dice Allora Cerchiamo di essere seri Cerchi di essere Convincente Perché lei È imputato Di un reato Che presuppone Come pena L'ergastolo Quindi le conviene Essere chiaro Facciamo un'ipotesi È a casa sua Nella sua stanza A un certo punto Si vede comparire Una persona Con una valigia E delle chiavi Cosa pensa Claudio Di nuovo risponde Allora Io La prima cosa Che ho immaginato Dopo la richiesta Di queste cose Potesse essere Una foto Con tanto di minaccia Ricapitata Per ottenere Un certo risultato Il giudice ribatte Lei dà le chiavi A Pierpaolo Perché Pierpaolo Mandi una foto Non ho capito Claudio ribatte No Io le ho detto Di cercare Di intimidirla In qualche maniera Per farla Desistere Dalla causa Del lavoro Parliamo di una Causa di lavoro Quindi Chiedo a lui Un'intimidazione Lo sapevo Violento Ma non un assassino Il giudice conclude Cioè praticamente Una persona Che si vede arrivare Uno Con un trolley Delle chiavi E un attrezzo Per fare un buco Deve pensare Che lo manda Il coniuge Vabbè Andiamo avanti Comunque Pierpaolo Spiega che La prima volta È andata male Perché Claudio Non è stato In grado Di spiegargli Come era fatta A casa sua Lui si è Ritrovato Una porta chiusa Non aveva le chiavi Per aprirla E quindi Se n'è andato Ma Un elemento Importante Per capire Chi è l'imputato Ossia Claudio Sono i comportamenti Tenuti dall'uomo Quella mattina Del 6 febbraio Quando lui E la figlia Tornano in via Corbara Nonostante Fosse a conoscenza Che qualcosa Di grave Era successo In quella casa E nonostante Il suo ruolo Di padre Fa gestire A sua figlia Rihanna Una ragazza Di 20 anni Tutta l'emergenza In pratica Claudio Ha usato Sua figlia Come alibi Quando il PM Gli chiede Perché non sia Sceso lui Dalla macchina Per andare a vedere La scena E magari Proteggere Sua figlia Claudio Con una freddezza Che onestamente Mi fa paura Risponde Io non sapevo Di come erano andate A finire le cose E come si sa Io non ho voluto Avere contatti Di nessun genere Con mia moglie Da quando sono andato Via di casa Quindi non mi sono mai Più avvicinato A quella casa Di conseguenza Non ero tenuto Ad avvicinarmi Per i motivi Che ho detto Quindi Claudio arriva In via Corbara Lascia andare La figlia In casa Che scopre Il cadavere Di sua madre Esce dalla macchina E si siete Sul marciapiede Vicino a un bidone Dell'immondizia E rimane lì In silenzio Seduto tranquillo Ancora adesso Arianna dice Che sia di giorno Che di notte Rivive dei flashback Di quella mattina Se sente le campane Le vengono i flashback Perché le ricordano Il giorno del funerale Della sua mamma Oppure la bara In obitorio Se sente le sirene Le ricordano I poliziotti Quella mattina Gli interrogatori O Quando hanno arrestato Suo padre Le danno fastidio I sacchi grandi Della spazzatura Neri Perché le ricordano Quelli della scientifica Quando Sulla barella Nel sacco nero Hanno portato via Il corpo di sua madre Fa degli incubi Tremendi E si è rivolta Ad un professionista Per ricevere un aiuto Ma poi Ha smesso Perché Prima Poteva contare Su suo padre Per quanto riguardava Il pagamento Delle sedute Poi aveva iniziato Ad andarci Lei Da sola Solo che Ad un certo punto Non aveva più I soldi necessari Quindi Ha interrotto Arianna Ad oggi Descrive la sua vita Come Una condanna Ha 21 anni Questa ragazza Le dichiarazioni Rese da Claudio Nanni Sono delle dichiarazioni Illogiche Irragionevoli Incongruenti E talvolta Farneticanti Onestamente D'altro canto Pierpaolo Quando viene arrestato Ammette subito I fatti E Questo suo Atteggiamento Processuale È meritevole Della concessione Delle attenuanti Generiche Ma non basta Prevalgono Le aggravanti La premeditazione I motivi Abbietti La recidiva I PM Richiedono per entrambi La pena Dell'ergastolo E la corte d'assise Di Ravenna Condanna Entrambi All'ergastolo Giustissima pena A mio parere Ma voglio sapere Cosa ne pensate anche voi Come al solito Nei commenti Conoscevate questa storia? Fatemi assolutamente Sapere che cosa ne pensate Di questo caso Perché Secondo me Qui davvero È solo una questione Di soldi L'unica cosa Che c'è dietro Sono I soldi Nient'altro Poi non so Se Claudio Avrebbe comunque Cercato di Far ammazzare Sua moglie Io questo Non ve lo so dire Non solo nel cervello Di Claudio Grazie a Diva Aggiungerei Però È davvero Assurdo Cioè Questa donna È morta In un modo Terribile Tutto perché Il marito Non voleva Darle I soldi Che le aspettavano Capisco che I moventi Riguardo i soldi Sono parecchi Nei casi crime Ma qui c'è di mezzo Una ragazzina Di 21 anni Che Si è ritrovata Il corpo di sua madre Sotto gli occhi È un trauma È un trauma Che ti porti dietro Per tutta La santissima vita Tutta E di fatti Lei stessa Dice che rivive I flashback Perché Perché ha vissuto Un trauma Questa povera ragazza E io sono Tanto Tanto Dispiaciuta Per lei Perché in un colpo solo Si è ritrovato Con il padre In galera E Insomma L'ergastolo Presume in Italia Almeno 30 anni Quindi In teoria E non so neanche Quanto buon rapporto Ci possa essere Tra loro due Cioè Perdonatemi Ma E io onestamente Dubito Che questa ragazza Arianna Voglia avere Dei rapporti Con quell'uomo E però Si è trovata anche Senza la mamma Cioè Questa ragazza Non ha più i genitori Non ce li ha più Ed è tremendo Tutto ciò Davvero Davvero tremendo Ripeto Secondo me La cosa più tremenda È trovarsi Il corpo Della propria madre In quel modo Appena entri in casa Perché lei Proprio è entrata In casa Dalla porta del garage E subito L'ha vista Immediatamente Poverina Davvero Mi dispiace Davvero Un sacco Per Arianna Davvero Davvero Tanto Spero È passato Un po' di tempo Un paio d'anni Insomma Credo Credo Forse solo uno Spero che Si stia riprendendo Che abbia ripreso A fare Comunque Delle sedute Con dei professionisti Perché Io dubito Che una persona Possa risolvere Una cosa del genere Da sola È una roba Che secondo me Ti rimane dentro Per tutta la vita Già a prescindere Ma per riuscire A elaborare il trauma Secondo me Qui c'è la necessità Di uno psicologo Un terapeuta Perché non è possibile Secondo me Che questa ragazza Viva Una vita Serena E normale La vedo Una cosa molto Dura Ardua Anche perché Insomma Quando le si chiama Chiede Come descriverebbe La sua vita Non è che risponde È una festa Anzi Tutt'altro Quindi Davvero poverina C'è anche durante il processo Nonostante Comunque Sia nascosta Cioè nel senso Che pixelano La parte Della Della faccia E lei aveva La mascherina Io sono riuscita Tranquillamente A Comprendere I suoi stati D'animo Anche solamente Dal suo tono Di voce E tra l'altro Mentre Pierpaolo Spiegava Come aveva ucciso Sua madre Lei era lì in aula Ed è davvero scoppiata In lacrime Cioè Tanto che Pierpaolo Ha detto No no Vi prego Fatela uscire Perché sennò Mi piglio male Io Brutta 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 Storia Che onestamente Mi ha toccata Più di altre Forse perché è italiana E quindi la sento Più vicina a me Ma davvero Terribile Terribile Questo caso Quindi come vi dicevo Ci becchiamo nei commenti Perché sono curiosa Di sapere La vostra Opinione Io nel frattempo Vi mando Un bacione Noi ci vediamo Prestissimo Al prossimo video Mi raccomando Fate i bravi Continuate A mangiare le verdure Che continuano a far bene Ma soprattutto Prendetevi cura di voi E fate ciò che vi rende felici Basta che non facciate nulla Di criminale Ciao a tutti